Non ciò le dati, l'Inps, sul reddito di cittadinanza che nel mese di aprile ha visto il beneficio percepito da 1,2 milioni di nuclei familiari ed il coinvolgimento di oltre 2,8 milioni di persone. I dati dell'Inps fotografano la situazione attuale ed evidenziano che la pensione di cittadinanza è a pannaggio invece di 109 mila famiglie. Rispetto al mese di aprile dell'anno precedente si riscontra un 14% in più di nuclei per settori interessati mentre si evidenzia una variazione minima rispetto al mese di marzo 2021. Tra le curiosità che emergono, due famiglie su tre che hanno percepito il reddito alla pensione di cittadinanza risiedono al sud o sulle isole e gli importi ricevuti dalle famiglie del mezzogiorno d'Italia risultano mediamente più alti a causa del maggior numero di componenti. Si attestano a 590 euro ad aprile rispetto alla media di 483 euro del nord Italia e 516 euro del centro Italia. La media nazionale è pari a 557 euro. Infine in Campania ad aprile oltre 264 mila famiglie hanno ottenuto il reddito di cittadinanza con quasi 700 mila persone coinvolte, un numero che supera quello dell'intero nord Italia con 254 mila famiglie interessate e 509 mila persone coinvolte.